nel corso del lab del 16 ottobre 2019 parleremo di digital zeitgeist ovvero dello spirito dei tempi nell'era della comunicazione digitale in particolare approfondiremo i temi di seo sem service concept google adwords revenue management pricing dinamico tattiche e strategie digitali il nostro team di professionisti affronterà il tema del web marketing da diversi punti di vista tendo dal classico concetto delle quattro p del web marketing ovvero product placement promotion and price si approfondiranno nel dettaglio le strategie per poter sviluppare ed implementare una strategia di comunicazione digitale che sia veramente efficace e vincente il prossimo lab sarà un lab che vedrà la partecipazione di ben cinque relatori sarà un lab quindi pieno di ritmo e con un'altissima concentrazione di idee e di spunti che nelle nostre intenzioni vogliono fungere da fonte di ispirazione nella gestione delle vostre imprese turistiche nei prossimi mesi io sarò il primo relatore e tratterò il tema del service concept in particolare cercherò di dare una risposta ad una domanda fondamentale ovvero siamo sicuri che le aspettative del nostro cliente potenziale siano in linea con la nostra idea di servizio riuscire a dare una risposta corretta a questa domanda ci permetterà di implementare strategie di comunicazione che siano veramente efficaci e vincenti nel tempo per poter comprendere meglio il concetto di service concept verranno presentati che stadi internazionali in particolare si vedranno gli esempi di ikea amazon booking airbnb ed anche esempi di alcune università americane molto interessanti paolo ramponi sarà il secondo relatore e cercherà di dare una risposta ad una domanda molto scottante ovvero ma il seo è morto sì perché in un'epoca in cui sembra che le grandi ota booking airbnb expedia sembrano spadroneggiare nel mercato ci si chiede se sia ancora utile investire nel seo paolo grazie al supporto di numeri di statistiche ci darà la risposta a questa attualissima domanda alberto per molti anni è stato dipendente di una multinazionale americana in qualità di dirigente ha girato il mondo in lungo e largo da qualche mese ha deciso di abbandonare tutto e di fondare la sua startup turistica e all'improvviso si è trovato a fare i conti con un algoritmo che non aveva mai considerato prima l'algoritmo di google il seo ecco alberto nella sua lecture ci parlerà di questi primi mesi da startupper e dell'impatto che il seo sta avendo sulla sua vita e sulla sua startup ma non di solo seo si campa talvolta è importante appoggiarsi anche al sem ovvero al search engine marketing ovvero a google adwords marco boni fondatore di strategy plus nel corso della sua lecture cercherà di dare risposta ad alcune attualissime domande come quando utilizzare google adwords quanto devo investire in google adwords per poter attivare campagne che siano veramente efficaci posso gestire google adwords in modo indipendente oppure devo appoggiarmi a un professionista e nel caso questo professionista quanto mi costa a tutte queste domande marco boni darà risposta nell'occasione del lab del 16 ottobre ultimo relatore sarà marco nicosia marco è uno degli astri nascenti del revenue management in italia la sua impresa full price gestisce ormai il pricing di migliaia di appartamenti sparsi in tutto il mondo marco ci accompagnerà alla scoperta della quarta p del web marketing ovvero il pricing in particolare il pricing dinamico e ricordiamoci che la quarta p del marketing mix è anche l'unica p che produce ricavi e per questo gioco un ruolo assolutamente centrale nella strategia comunicativa di marketing di qualsiasi azienda di hospitality è chiaro che il lab del 16 ottobre 2019 vedrà avvicendarsi sul palco un panel veramente interessante di oratori e i contenuti trattati saranno di altissimo livello quindi vi consigliamo assolutamente di partecipare a questo lab e vi ricordiamo che il lab è gratuito ma ci sono soltanto 90 posti disponibili nel momento in cui vi sto parlando più della metà sono già stati prenotati quindi mi raccomando affrettatevi a prenotare e ci vediamo il 16 ottobre all'auditorium dello student hotel a presto ciao 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 ciao